No, volevo dirvi che c'è stato un sondaggio questa mattina che mi ha un po' preoccupato. Hanno fatto un sondaggio su 100 ragazze di Monza dai 20 ai 30 anni e gli hanno chiesto ma fareste l'amore con Berlusconi? Il 33% ha risposto magari, il 67% ancora. Va bene così facciamo un sorriso.